Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per proporvi un vero e proprio giallo. Si tratta di un caso ancora oggi irrisolto, ma immagino lo sappiate dal momento in cui avete letto il titolo del video. Infatti questa terribile vicenda si consuma nel 1987, ci troviamo nel Varesotto, in Lombardia. Questo vuol dire che da allora sono passati ormai 35 anni. Ma fidatevi, abbiamo parecchie cose di cui parlare. Prima di tutto vi dico con estremo dispiacere che non si trovano molte informazioni su Lidia. O almeno ciò che ho rintracciato corrisponde a quelle informazioni necessarie per riuscire a farci un'idea sulla vittima che a mio avviso è tratteggiata in maniera blanda. Ma andiamo con ordine. Lidia Macchi nel 1987 ha 21 anni, vive a Varese, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. È iscritta al secondo anno di giurisprudenza all'Università Statale di Milano e fa la spola tra Varese e Milano per frequentare i corsi. I rapporti con la famiglia vengono definiti perfetti. Amano passare del tempo insieme per condividere gioie, dispiaceri e successi. Lidia è una ragazza molto religiosa, è attiva nel suo gruppo scout legato alla chiesa e frequenta gli incontri del gruppo di comunione e liberazione. Fa volontariati, una ragazza con la testa sulle spalle, matura. È anche molto intelligente, sogna di diventare magistrato. Ha un carattere solare ed empatico, molti amici e un profondo senso di lealtà. Inoltre ha una fede davvero profonda, reale. Frequentando gli ambienti della chiesa, Lidia ha sviluppato una mentalità il quanto quadrata, anche dal punto di vista sentimentale e intimo. Lidia è casta e pura e non ha intenzione di perdere la verginità con un ipotetico fidanzato. Decide infatti che si concederà soltanto una volta con volata nozze. Ma non è finita qui. Lidia infatti è una ragazza molto riflessiva e sensibile. Scrive tantissimo, per lo più poesie. Dal primo al 4 gennaio 1987 Lidia va ad un ritiro spirituale, poi torna a casa. È il 5 gennaio, Lidia è a casa da sola perché anche i suoi genitori sono partiti per una vacanza in montagna, ma in ogni caso sarebbero tornati entrosera. Di conseguenza però Lidia non ha l'automobile, o meglio, non ha il permesso di prendere la panda, quindi cerca gli orari dei treni per vedere come raggiungere Cittiglio. Ma non riesce proprio a trovare nessun mezzo di trasporto che copra il tragitto che le interessa. Alla fine Lidia si arrende al fatto che probabilmente quel giorno non vedrà la sua amica Paola, ricoverata all'ospedale di Cittiglio in seguito a un incidente stradale. Fortunatamente i suoi genitori tornano a casa prima del previsto ed è a questo punto che arriviamo a quella gelida sera del 5 gennaio quando Lidia si mette in auto per andare a trovare Paola. Sono le 19 quando i suoi genitori le permettono di usare l'auto e le danno 10.000 lire per la benzina. Lidia prima di uscire di casa dice a suo padre che non sarebbe tornata oltre l'orario di cena, al massimo per le 20.30 sarebbe stata a casa, anche perché Cittiglio dista circa 25 minuti di macchina da Varese. Lidia quindi entra in macchina, mette in moto e inizia a guidare in direzione Cittiglio. Arriva in ospedale e sta con la sua amica Paola per una mezz'oretta. Verso le 20, 20 e 15 la ragazza guarda l'orologio e scatta in piedi immediatamente. Saluta Paola in tutta fretta dicendole che teme di fare tardi per cena, i suoi la stanno aspettando. Esce quindi dall'ospedale, sale in auto, mette in moto, ma Lidia non arriverà mai a casa. Che cosa le è successo? Perché non farà mai rientro a casa? Cos'è accaduto davvero a Lidia Macchi? Intanto a casa Macchi i genitori l'aspettano fino alle 21, poi allarmati iniziano a chiamare gli ospedali della zona. Pensano che abbia avuto un incidente, ma di Lidia non c'è traccia. Quindi provano a chiamare qualche sua amica. Ipotizzano, magari si è trattenuta a parlare con qualcuno dopo essere uscita dall'ospedale e ha perso la cognizione del tempo. Purtroppo i suoi genitori non ricevono mai risposte rassicuranti. Nessuno ha visto Lidia dopo Paola, la sua amica ricoverata in ospedale. Così decidono di prendere la macchina per andare a cercarla. Sono molto preoccupati per lei e sperano di trovarla. Magari è ferma per strada con la panda perché ha finito la benzina. Sperano. Arrivati al parcheggio dell'ospedale di Cittiglio, i genitori notano che l'auto usata da Lidia, la panda, non è lì. Durante il tragitto non si sono imbattuti nessun incidente. E in effetti la stessa Paola conferma che Lidia era diretta a casa per cena. Lidia però sembra essersi davvero volatilizzata. Sono le ore 23. Il padre di Lidia è terrorizzato da quello che potrebbe essere accaduto alla figlia. Giorgio Macchi non ce la fa a stare con le mani in mano. Non ce la fa neanche ad aspettare il giorno seguente per sporgere denuncia di scomparsa. Quindi esce di nuovo per perlustrare tutta la zona del Lago Maggiore che circonda Cittiglio e Varese. Ma pure questo tentativo va a vuoto. Di Lidia non c'è nessuna traccia. Però Lidia è una ragazza molto amata. Ha tanti amici e la notizia della sua scomparsa ben presto si diffonde in tutta Varese. Il giorno dopo, di buon ora, tutti gli amici scout di Lidia si presentano davanti a casa sua e si dividono per continuare a cercarla. Alcuni prendono addirittura un motoscafo per cercarla nel lago mentre altri si dividono organizzandosi con delle mappe e delle torce. La cercano nei boschi fra le montagne che da Varese arrivano a Cittiglio. Nel frattempo i suoi genitori sporgono denuncia di scomparsa. Ed è a questo punto che iniziano ad emergere alcune testimonianze. Una signora era affacciata alla finestra dell'ospedale. Stava per essere dimessa quindi era in attesa dell'arrivo del marito che stava venendo a prenderla. La finestra affaccia sul parcheggio dell'ospedale. La donna vede la panda di Lidia. Ma il punto è che non vede solo la panda. Sostiene che un'auto bianca di grossa cilindrata abbia accostato proprio accanto a quella panda bianca. Di chi è quella macchina? Perché si è accostata accanto alla panda di Lidia? Ma soprattutto pare che qualcosa di strano succede in quel parcheggio. Perché Lidia in effetti mette in moto e inizia a guidare. Ma si dirige nella parte opposta quella che avrebbe dovuto prendere per tornare a Varese. Ciò significa che deve essere successo qualcosa nel parcheggio dell'ospedale. Dato che aveva tutte le intenzioni di tornare a casa. Molti ipotizzano che Lidia quella sera avesse un appuntamento. Magari con un ragazzo e non volesse farlo sapere ai genitori. Questa teoria per quanto mi riguarda è alquanto traballante. Se Lidia avesse avuto un appuntamento avrebbe inventato una scusa con i suoi genitori per restare fuori anche oltre l'ora di cena. A mio avviso la versione più probabile e anche quella più logica è che Lidia in quel parcheggio sia stata minacciata da un aggressore e un rapitore. A questo punto arriviamo alla tarda mattinata del 7 gennaio. Alcuni amici intimi di Lidia, i suoi migliori amici Roberto, Teresa e Maria Pia, finalmente trovano la sua panda bianca sul ciglio di una strada sterrata in una zona boschiva vicino alla ferrovia di Cittiglio in località Saspinin. La migliore amica di Lidia, Maria Pia, scatta per correre verso la macchina ma Roberto la blocca perché ahimè ha già visto il cadavere di Lidia accanto alla panda. I ragazzi chiamano immediatamente i carabinieri che accorrono sul luogo del delitto insieme al PM di turno. Iniziano a studiare la scena del crimine e notano sin da subito strani particolari. Lidia è morta a causa delle pugnalate inferte con un coltello di piccole dimensioni. Le ha ricevute alle spalle quelle coltellate. Sono 29 per la precisione ma c'è poco sangue sulla scena del crimine. O almeno non è presente abbastanza sangue da poter spiegare quelle 29 coltellate. Lidia è vestita, riversa a pancia in giù, con i pugni stretti al petto, coperta da un grosso cartone. I carabinieri esaminano il boschetto dove è stata trovata Lidia, un luogo particolarmente isolato che veniva utilizzato come discarica oppure come luogo di appuntamenti un poloschi. Giungono quindi alla logica conclusione che Lidia non è stata uccisa lì ma altrove e il suo cadavere è stato spostato in un secondo momento. Neanche in macchina sono presenti considerevoli tracce ematiche, a parte sul sedile del passeggero, totalmente reclinato. Lo sportello del passeggero della panda è aperto. Il quadro è acceso così come la spia della riserva. Infatti Lidia non aveva mai fatto benzina. Le 10.000 lire che suo padre le aveva dato erano ancora nella sua tasca. Quando Lidia scompare indossa un paio di collant sotto a dei jeans neri, un giubbino scuro e degli stivali. Gli stivali però hanno qualcosa di strano. Lidia infatti li indossava fuori dei jeans ma ora quegli stivali sono infilati nei jeans e anche i collant Lidia li ha il contrario, quindi forse qualcuno l'ha sfogliata per poi rivestirla? Dall'autopsia emerge che le 29 coltellate che hanno colpito Lidia sono state inferte con un pugnale di piccole dimensioni. Un'altra cosa che emerge dall'autopsia è che Lidia non è più illibata. Dunque, prima di essere uccisa, ha avuto il suo primo rapporto intimo. Considerando la castità di Lidia e quanto ci tenesse a preservare la sua verginità, si giunge subito a una tremenda conclusione. A Lidia è stata usata violenza intima. Ma perché qualcuno ha fatto del male proprio a Lidia? Qual è il movente? Chi è il malintenzionato che si è approfittato della giovane ragazza? Forse Lidia si è ribellata. Insomma, solo una mente malsana avrebbe pensato di portare Lidia in quella zona, far violenza su di lei e poi ucciderla. Gli inquirenti quindi cercano qualcuno che abbia precedenti legati a dei crimini di natura intima. Questa però non è una notizia di cui trappelano molti dettagli. La sua famiglia porta sempre avanti l'ipotesi che Lidia sia stata uccisa poiché si è difesa da qualche malintenzionato che voleva approfittarsi di lei. Il punto è che sul corpo di Lidia non ci sono ferite che possano ricondurre ad una violenza intima. Questo vuol dire che, in quel momento, Lidia era inerme. Quindi non è morta perché si è difesa, come suo padre sostiene. Magari Lidia è stata tramortita, oppure è stata minacciata. Magari ha fatto salire qualcuno in macchina che poi l'ha aggredita. Lidia, come appena detto, non presenta ferite da difesa e, a questo punto, gli inquirenti ipotizzano che la ragazza avesse incontrato qualcuno con cui aveva avuto un rapporto intimo consensiente. Poi però questo individuo, alla fine del rapporto, ha deciso di toglierle la vita. Ok. Ma, per quanto mi riguarda, manca ancora la risposta a una domanda. Perché Lidia è stata uccisa? La causa del decesso, secondo l'autopsia, è anemia acuta unita ad una sfissia acuta. Quindi Lidia, sì, è stata pugnalata, ma anche strangolata. Il medico legale dell'epoca ipotizza che Lidia non sia stata uccisa dove poi è stata ritrovata, in quanto, come già vi ho detto, è stata rinvenuta una quantità di sangue alquanto limitata. A questo punto spuntano fuori altri testimoni che hanno visto qualcosa la sera dell'omicidio di Lidia. Riferiscano la presenza di una persona sospetta che quello stesso giorno si aggirava nel parcheggio dell'ospedale e si comportava in modo inquietante a dir poco. L'uomo, infatti, si aggrappava ai finestrini delle auto e gridava. Questi testimoni sostengono che l'uomo avesse urlato contro una ragazza in particolare che guidava una panda bianca. Il punto è che questa pista non convince gli inquirenti e quell'uomo, per quanto spaventi le persone, potrebbe avere qualche disturbo mentale. La famiglia di Lidia, tra l'altro, si fa avanti dicendo che Lidia mai avrebbe fatto salire in macchina uno sconosciuto. Era una ragazza responsabile. Al suo funerale il 10 gennaio si registrano 5.000 presenze. Tutti gli amici e le persone che la giovane studentessa aveva conosciuto sono lì per dirle addio, per dirle di riposare in pace. Alla famiglia Macchi arrivano centinaia di messaggi di affetto e vicinanza. Tra le tante missive, tuttavia, una in particolare colpisce l'attenzione della signora Macchi. Si intitola In morte di un'amica, ed è anonima. È proprio questo dettaglio a colpire l'attenzione dei genitori della ragazza. Perché un amico, come si definisce sull'intestazione, non dovrebbe firmarsi? Anche il contenuto della lettera è singolare. E come già vi ho detto, si intitola In morte di un'amica. E allora leggiamolo il contenuto così singolare di questa lettera. La morte urla contro il suo destino, grida di orrore per essere morte. Orrenda censura, strazio di carni, la morte grida. E grida l'uomo della croce. Rifiuto, il grande rifiuto, la lotta, la guerra di sempre. E la madre, la tenera madre, coi fratelli in pianto. Perché io? Perché tu? Perché in questa notte di gelo che le stelle sono così belle? Il corpo offeso, velo di tempio strappato, giace. Come può è rimanere appeso al legno? In nome della giustizia, nel nome dell'uomo, nel nome del rispetto per l'uomo. Passi da noi il calice. Ma la tetra signora grida alte le sue ragioni. Consumatum mest! Questo è lo scotto dell'antichissimo errore. E tu, agnello purificato che pieghi il capo, timoroso e docile. Agnello sacrificale. Che nulla strepiti, non un lamento. Eppure un suono persiste. Una brezza ristoro alle nostre aride valli. In questa notte di pianti, nel nome di lui, di colui che ci ha preceduti. Crucifissa, sospesa a due travi. Nel nome del padre, sia la tua volontà. È chiaro come sole che questa sia una poesia. Ma andiamo immediatamente ad analizzarla, questa poesia. Prima, una premessa. Si sappia che, solo nel caso in cui, in una missiva anonima, siano presenti informazioni sul delitto, non di dominio pubblico. Si può attribuire la lettera all'autore del reato, in quanto l'omicida ed un eventuale mitomane possono apparire sovrapponibili da un punto di vista psicopatologico, tanto da risultare indistinguibili. Dall'analisi del testo emerge che chi ha scritto la lettera e ha il corrente dei particolari dell'omicidio. E partiamo con lo strazio di carni e la notte di gelo, anche se non erano un segreto per nessuno. Chiariamo. Strazio della carne potrebbe riferirsi alle 29 coltellate. Rifiuto. Il grande rifiuto è un riferimento alle cose intime. Prima che venissero rivelati i risultati autoptici, gli amici di Lidia, il giornalista Enrico Bonerandi e l'autore anonimo della missiva condividevano evidentemente il pensiero del padre della Macchi, ovvero che Lidia fosse morta nell'opporsi ad una violenza. La notte di gelo potrebbe essere la notte del 7 gennaio, in cui la colonnina di Mercurio segnava meno 3 gradi. L'autopsia ha rivelato che Lidia aveva avuto un rapporto quel giorno, ma non ha riscontrato né i segni di un tentativo di violenza né quelli di una violenza vera e propria. Sono pertanto proprio queste quattro parole, rifiuto e il grande rifiuto, che ci permettono di escludere che l'autore di questa poesia anonima sia l'omicida. Lidia infatti non venne uccisa durante un tentativo di violenza. Velo di Tempio Strappato è una citazione del Vangelo secondo Matteo, attraverso la quale l'autore anonimo equipara la morte di Lidia a quella di Gesù Cristo. Consummatum est è una locuzione latina trascritta male, senza una M, dovrebbe essere infatti consummatum, che significa tutto è compiuto. Consummatum est sono le ultime parole di Gesù morente in croce raccolte nel Vangelo di San Giovanni e rappresentano un ulteriore parallelismo tra la morte di Lidia e quella di Gesù Cristo. Agnello senza macchia è un parallelismo con la Vergine Maria nota come Agnella senza macchia. Il fatto che l'autore della lettera, che evidentemente è un soggetto appartenente al movimento di comunione e liberazione, abbia definito Lidia un agnello senza macchia, conferma che il velo di Tempio Strappato non è un riferimento alla verginità perduta, perché sarebbero affermazioni in contraddizione tra loro. Una brezza ristoro alle nostre aride valle è una frase di intento consolatorio, la brezza rappresenta infatti la speranza legata alla fede. Quindi, tirando le somme, in morte di un'amica è semplicemente una lettera di un soggetto religioso che equipara la morte di Lidia a quella di Gesù Cristo e che, a parte chiedersi come Cristo possa rimanere appeso al legno, accetta di buon grado che sia fatta la volontà divina, in nome del Padre. L'autore anonimo vive in armonia la sua religiosità. Egli infatti accetta che sia fatta la volontà divina in nome del Padre e inoltre non fa alcun riferimento ad un vissuto di pulsioni in contrasto con le regole di comunione e liberazione. Nella poesia e in morte di un'amica non sono presenti né una eventuale ammissione tra le righe, né una confessione. Ma ci torneremo su questa lettera perché sarà interpretata in tutt'altro modo quasi 30 anni dopo. Gli inquirenti a questo punto riflettono e realizzano che è vero, considerando la personalità della vittima, difficilmente avrebbe fatto salire in macchina uno sconosciuto. Ma qualcuno che conosceva, invece, potrebbe averlo fatto salire come? Ed è da qui che parte l'indagine sui contatti e sull'ambiente che frequentava Lidia. Vi sto parlando dell'ambiente religioso, degli scout, di comunione e liberazione. Lidia inoltre frequentava dei sacerdoti e in effetti le indagini investigano proprio su uno di loro, ossia Don Antonio. Don Antonio era un sacerdote e guida spirituale del gruppo scout di Lidia. Di conseguenza sicuramente i due avevano un rapporto in un certo senso privilegiato. Quindi il 17 giugno Don Antonio viene convocato in pretura e trattenuto per un interrogatorio. La domanda è, perché mai lo portano addirittura in pretura per interrogarlo come se fosse un sospettato? Beh, perché erano arrivate delle lettere anonime agli investigatori che effettivamente accusavano Don Antonio dell'omicidio. Il prete spiega agli inquirenti che la sera del 5 gennaio si trovava in oratorio per preparare l'omelia in vista della messa per l'epifania. Poi era semplicemente andato a letto. A distanza di due settimane però rettifica la sua testimonianza. Don Antonio consulta la sua agenda e si rende conto che la sera del 5 gennaio non si trovava in oratorio, ma era impegnato in una riunione religiosa insieme ad altri sacerdoti e un laico che confermeranno che Don Antonio era con loro quella sera. Anche se tutti e tre forniscono versioni un pochino contrastanti. Vengono infatti giudicati per falsa testimonianza siccome pare che qualcuno abbia forzato i tre sacerdoti a identificare la presenza di Antonio a quella riunione. Questo fatto rende le loro dichiarazioni inattendibili. Ma non è tutto. Don Antonio possiede un coltello da boy scout che potrebbe essere compatibile con quello che ha colpito Lydia. Ma quando il PM gli chiede di mostrarlo, Antonio dice di averlo perso. Successivamente durante un ennesimo sopralluogo sulla scena del ritrovamento, Don Antonio ha un mancamento. Gli inquirenti pensano che il mancamento di Don Antonio sia per l'appunto dovuto ad un enorme senso di colpa. Ovviamente in quel periodo lo stress era notevole ed è dunque possibile che il prete abbia avuto un mancamento perché si sentiva sotto pressione. Gli inquirenti lo avevano interrogato ed erano convinti fosse lui il colpevole. Peccato che per quanto riguarda le prove su Don Antonio ci sia poco o niente anche se l'uomo risulterà indagato fino al 2015, quindi per ben 27 anni. Chiariamo, nessuno effettivamente indaga più su Don Antonio. Gli inquirenti infatti stanno già battendo un'altra pista. Passano 11 mesi dall'omicidio di Lydia. In televisione va in onda un programma che si chiama Giallo, condotto da Enzo Tortora. Durante una puntata dedicata a Lydia il giornalista lancia una sfida alla città di Varese. Dovete sapere che in quei giorni era stata approvata una nuova metodologia di indagine, ossia un esame in grado di risalire attraverso l'analisi del DNA all'identità biologica di una persona. Questi sono i primi tentativi che coinvolgono l'esame del DNA, ma sappiamo che non avranno mai una vera valenza scientifica, almeno fino agli anni 2000. Enzo Tortora guarda fisso in telecamera per poi esclamare Varese, saresti disposta a donare il sangue per la giustizia? Così, Varese accoglie la sfida. In effetti, il 74% della popolazione maschile di Varese fornisce il proprio profilo genetico. Tra questi c'è il profilo genetico di tre persone che Lydia conosceva, è quello di Don Antonio, che a questo punto viene formalmente indagato. A distanza di sei mesi però i risultati sono sconfortanti. Il test non dà esiti né positivi né negativi. Le tracce trovate su Lydia sono troppo deteriorate, quindi non si riesce a ricavare il profilo genetico dell'ipotetico assassino. Hanno però raccolto il DNA di praticamente quasi tutta la popolazione maschile di Varese. Ho letto in diverse fonti che questo esame del DNA scagiona Don Antonio. Ebbene, non dovrebbe essere così. Il test non dà alcun esito, quindi Don Antonio resta non solo nella lista dei sospettati, ma continua ad essere indagato. È così che la procura di Varese si ritrova a dover rincominciare tutto da capo. A questo punto dobbiamo fare un bel balzo in avanti. È il 1993, quando all'allora questone di Milano Achille Serra giunge una lettera anonima, nella quale si mettono in relazione due delitti irrisolti di quegli anni. Uno è quello di Lydia Macchi, l'altro è quello di Simonetta Ferrero, una giovane ritrovata senza vita nei bagni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1971. Il probabile autore di entrambi i delitti, secondo la lettera anonima, è un sacerdote di 50 anni che potrebbe dunque essere coinvolto in entrambi i casi. La pista però non viene ritenuta attendibile e da allora il caso di Lydia diventa un caso irrisolto. A questo punto dobbiamo fare un ennesimo salto temporale. Arriviamo al 2013. Il caso passa dalla procura di Varese a quella di Milano e così viene riaperto. I sospetti ricadono su un criminale già noto, ossia Giuseppe Piccolomo. Giuseppe era stato condannato all'ergassolo per il delitto delle mani mozzate. La vittima era Carla Molinari, una tipografa in pensione che era stata aggredita in casa sua il 6 novembre 2009 a scopo di rapina. Ci troviamo sempre nella zona di Varese. Questo delitto è stato soprannominato così perché alla povera Carla Molinari furono per l'appunto ammettate le mani con un coltello da disosso. Ma non è finita qui. Infatti Giuseppe Piccolomo era stato accusato anche per l'omicidio di sua moglie Marisa Maldera. La donna era morta la notte del 20 febbraio del 2003, bruciata viva nella sua macchina. Però che prove ha la procura per puntare il dito proprio contro Giuseppe Piccolomo? Innanzitutto le figlie di Giuseppe dichiarano che lui era solito minacciarle dicendo loro che le avrebbe fatto fare la fine che ha fatto Lidia Macchi. Quindi Giuseppe parlava molto spesso del delitto di Lidia Macchi vantandosi di essere stato lui l'assassino e minacciando le figlie di far fare loro la stessa fine. Successivamente emerge un identikit risultato dalla descrizione di tre donne che poco prima dell'omicidio di Lidia ricordano di essere state e mollestate da un uomo con i baffi. E Piccolomo aveva baffi molto folti all'epoca. Per di più, in quei giorni viene visto a bordo di un'auto bianca. E qui torniamo all'inizio del video quando vi ho detto che una testimonia aveva sostenuto di aver visto un'auto bianca avvicinarsi alla panda di Lidia nel parcheggio dell'ospedale di Cittiglio. Ma non è finita qui perché l'uomo abitava a 500 metri dal luogo del delitto. Inoltre, come già vi ho detto, il cadavere della povera Lidia viene trovato sotto un cartone. Ebbene, Giuseppe faceva l'imbianchina di cartoni, ne usava anche parecchi. Però, non trovando elementi sufficienti per rimandarlo a giudizio, anche Giuseppe Piccolomo esce ben presto di scena. Poi, ecco che nel 2015 arriva seriamente la svolta. Durante la trasmissione quarto grado viene mostrata la lettera, in morte di un'amica. Ebbene, Patrizia Bianchi, un'amica di Lidia, in quelle parole scritte a mano, riconosce la calligrafia di un suo ex fidanzato dell'epoca, ossia Stefano Binda, che era già un soggetto delle indagini in quanto ex compagno di scuola di Lidia. A questo punto, la donna prende delle vecchie cartoline che Stefano le aveva mandato, e le porta alla polizia per far confrontare la calligrafia rilevabile dalla lettera con quella delle cartoline. Vengono di conseguenza nominati dei periti calligrafici e un perito psichiatrico che traccia un profilo psicologico dell'assassino. Si giunge alla conclusione che chi ha scritto quella lettera è molto probabilmente la stessa persona che ha ucciso Lidia. Dalla perizia calligrafica inoltre emerge che la persona che ha scritto quella lettera è la stessa che ha scritto quelle cartoline inviate alla ex fidanzata. Quella lettera l'aveva scritta Stefano Binda, quindi lui è l'assassino di Lidia Macchi. Ovviamente l'uomo viene iscritto immediatamente nel registro degli indagati, di conseguenza iniziano le indagini che ruotano attorno ai rapporti tra Lidia e Stefano Binda. Viene anche inoltrata una richiesta di esumazione del corpo di Lidia al fine di ricavare ulteriori profili genetici dell'assassino. Quando viene indagato Stefano Binda ha 50 anni, non si è mai sposato e vive da sempre con sua madre. È laureato in filosofia, ha addirittura conseguito un dottorato di ricerca, ma la verità è che Stefano non ha mai lavorato. Lui vive per i suoi libri, per i suoi studi, partecipa a svariate attività teatrali, scrive poesie e tutto sommato conduce una vita alquanto riservata. C'è da dire che in passato da ragazzo Stefano Binda aveva avuto problemi di dipendenza quando spiccano un mandato di perquisizione della sua abitazione, trovano e sequestrano svariate agende risalenti proprio al 1987. La carta delle agende sembra la medesima del foglio utilizzato per scrivere in morte di un'amica. A seguito di una perizia, in effetti, si stabilirà che si tratta proprio della stessa carta. Sulla pagina di una delle agende del 9 gennaio, Stefano Binda ha incollato una foto di Lidia, disegnando accanto il simbolo di comunione e liberazione. Stefano Binda nel frattempo continua a ribadire la sua totale estraneità ai fatti. Lui quella lettera non l'ha mai scritta, ma soprattutto non ha ucciso Lidia. Stefano sostiene che non sono mai diventati grandi amici, certo si frequentavano, si incontravano negli ambienti della chiesa, ma nulla di più. Inoltre Stefano ha un alibi per quella sera di gennaio, almeno così riferisce alla PM. Spiega che il 5 gennaio 1987 si trovava pragelato un comune della città metropolitana di Torino in occasione di una gita organizzata da comunione e liberazione. C'è però un bel problema, nessuno degli amici di Stefano che avrebbero dovuto essere in gita con lui quel giorno sarà in grado di confermare la circostanza. Nessuno ricorda la presenza di Stefano. A questo punto viene riesumato il corpo di Lidia Macchi e ahimene anche questa circostanza porterà chissà quali risultati. Riescono a isolare quattro campioni di formazioni pilifere nella zona pubica del corpo di Lidia. Peccato che questi microframmenti piliferi siano senza bulbo e, da uno studio più approfondito, non sembrano neanche pelipubici. Fatto sta che questi frammenti piliferi riescono ad isolare un DNA che non corrisponde a quello di Giuseppe Piccolomo. Risultato? Beh, Giuseppe Piccolomo è innocente. Ora, io sono alquanto allevita anche perché quei microframmenti piliferi, dato che non sembrano pelipubici, potrebbero essere ad esempio capelli? E quei capelli potrebbero essere di chi ha maneggiato poi il corpo, come magari la gente funebre che ha sistemato Lidia prima del funerale? Secondo me sì. Altra cosa rilevata, non sono presenti tracce di Stefano Binda sul corpo della ragazza. Inoltre a me si scoprirà che molti dei reperti catalogati sono andati persi o distrutti. Infine, il DNA ritrovato sul francobollo della lettera in morte di un'amica non corrisponde al DNA di Stefano Binda. Nonostante ciò, l'impianto accusatorio della procura non crolla. Stefano Binda viene posto in custodia cautelare in attesa del rinvio a giudizio. Sulla base delle testimonianze e degli indizi raccolti, la ricostruzione dei giudici di primo grado è questa. Stefano avrebbe raggiunto Lidia al parcheggio dell'ospedale, sarebbe salito sulla sua macchina, dato che si conoscevano, e poi i due si sarebbero appartati in quel boschetto dove appunto è stato ritrovato il cadavere di Lidia. Poi Stefano Binda avrebbe usato violenza su Lidia che si sarebbe difesa, quindi lui l'avrebbe uccisa. Ma qual è il movente di questa uccisione? Ebbene, lui è molto religioso e ci tiene la castità così come lei. C'è però un problema. Lidia era troppo avvenente per lui, lo ha dunque colto in tentazione. E lui ha ceduto a questa tentazione perdendo anche la sua verginità. Quindi dopo aver avuto un rapporto consensuale, Stefano si sarebbe sentito tradito da Lidia perché ha infranto il patto di castità. Di conseguenza Stefano la svaluta, in quanto Lidia non era la ragazza che lui pensava fosse. Tradotto, l'ha uccisa perché Lidia era così bella, così avvenente da spingerlo ad avere rapporti con lei. Vi giuro, io un movente così assurdo credo di non averlo mai letto. Ma quanto diamine cervellotico! Secondo l'accusa Stefano Binda avrebbe agito, cito testualmente, con l'aggravante di futili e abietti motivi nell'intento di distruggere la donna considerata, quale è causa del rapporto intimo vissuto come tradimento del suo ossessivo e delirante credo religioso. Il processo di primo grado si tiene nel 2017. Stefano Binda è accusato di omicidio volontario aggravato da crudeltà e viene condannato nel 2018 all'ergastolo. La prova che considerano più importante è proprio la lettera morte di un'amica. I giudici dicono esattamente queste parole. La lettera, per il forte simbolismo che contiene, non è da considerarsi una semplice poesia, ma contiene certe descrizioni e riferimenti a particolari che soltanto l'assassino poteva conoscere. Dovete sapere che durante il processo di primo grado interviene un avvocato in veste di testimone di nome Pier Giorgio Vittorini che dice testuali parole. È successo che un uomo del quale non posso fare il nome si è presentato alla porta del mio studio e dicendomi che la lettera l'ha pensata, scritta e spedita a lui. Quest'uomo che ha moglie, figlie e un alto livello culturale non conosceva né Lydia né la famiglia Macchi. Scrisse la lettera per testimoniare loro vicinanza attraverso la preghiera. Ora vuole rimanere anonimo perché teme di essere coinvolto nel processo. La testimonianza di questo avvocato non viene presa molto in considerazione visto che la persona che avrebbe scritto quella lettera vuole rimanere anonima. Comunque, come già vi ho detto, Stefano Binda viene condannato all'ergastolo e due anni dopo, nel luglio del 2019, arriva la sentenza d'appello che ribalta totalmente la sentenza di primo grado. I giudici d'appello pensano che le conclusioni dei giudici di primo grado non avessero il minimo senso per questi motivi. La busta con la quale viene inviata questa lettera reca il timbro dell'ufficio postale di Varese Centro del 9 gennaio 1987 ore 16. Il corpo di Lydia viene trovato la mattina del 7 gennaio. Dal 7 al 9 gennaio le notizie sull'omicidio di Lydia avevano già iniziato a girare, certo non hanno diffuso dettagli, ma tutto quello che conteneva quella lettera era stato riportato in tanti articoli di giornale. In particolare viene citato un articolo di Repubblica perché nella lettera erano presenti delle frasi tratte da quell'articolo. Quindi i giudici d'appello sostengono che il movente non può stare in piedi, che è assurdo, ma soprattutto che sono solo congetture senza senso. Ma manca una cosa fondamentale. Se vi ricordate il DNA dell'assassino era stato isolato, eppure ora non possono fare un test del DNA a Stefano Binda. Perché mi chiederete voi? Beh, perché hanno buttato i vetrini contenenti le tracce biologiche dell'assassino di Lydia Macchi, in quanto non c'era più spazio nell'ufficio corpi di reato. In pratica hanno buttato via delle prove essenziali di un caso irrisolto. Perché quando analizzo casi di questo genere spesso saltano fuori notizie di questo tipo? Ma davvero si possono cestinare delle prove così importanti per il caso? Il 27 gennaio 2020 Stefano Binda viene definitivamente assolto dall'accusa di omicidio. Non è l'assassino di Lydia. Oggi Stefano Binda svolge attività culturali nelle associazioni del territorio e durante il periodo della carcerazione si era distinto per aver aiutato diversi detenuti nella compilazione di documenti e istanze. Chiede allo Stato circa 303.000 euro per 1.286 giorni di ingiusta detenzione e martedì mattina 24 maggio 2022, dinanzi alla quinta sezione penale della Corte d'Appello di Milano, si è tenuta l'udienza per la discussione della richiesta di indennità per ingiusta detenzione presentata dai legali di Stefano Binda. Le ultime notizie che sono riuscita a reperire sono queste. Ciò significa che non possiamo sapere ancora se effettivamente Stefano Binda sarà risarcito dallo Stato. Se ci saranno delle novità pubblicherò un commento pinnato in alto per farvi sapere come è andata a finire, anche se spero che questo caso si chiuda prima o poi con un colpevole. Detto questo io ho finito di parlare in questo video, spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, lo so che probabilmente lo conoscete, però ho visto anche che qualcuno me l'ha consigliato proprio nell'ultimo periodo su Google Docs, quindi ho preso diciamo la palla al balzo. Cosa ne pensate voi di questo caso? Secondo voi piccolomo c'entra qualcosa, perché secondo me piccolomo c'entra un bel po'. Ma fatemi sapere le vostre idee, le vostre opinioni, che idee vi siete fatti e fatte di questo caso? Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!